Musica Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a eventi extra comunitari che oggi l'hanno preso parte al corso di educazione civico stradale relativa alla conoscenza e al comportamento. Si è svolta ieri pomeriggio alla presenza dell'assessore comunale ai servizi sociali di Giabela e del comandante della polizia municipale Giuseppe Montana. L'iniziativa promossa dall'ex assessore al controllo del territorio Eugenio Catania è stata curata dall'ispettore Slavatore Sauna con la collaborazione di alcuni mediatori culturali. Convolgimento ai fini dell'integrazione, questo è l'obiettivo chiave, è chiaro. Non si può pensare che questi ragazzi possano essere esclusi dalle dinamiche civili che si svolgono all'interno della città, quindi un corso sull'educazione di civiltà. E questo è stato il messaggio che è passato appunto in questo di formazione. Ci auguriamo di replicarlo e di potenziare lì dove ci siano le condizioni questo momento appunto di integrazione nel vero senso della parola. La prima cosa che noi vorremmo sottolineare è la necessità che siamo in presenza di due culture diverse, entrambi paritarie, è la cosa fondamentale che vogliamo sottolineare ed entrambe che meritano di essere poste sullo stesso piano e rispettate allo stesso modo. Ma evidentemente si tratta di persone che si trovano sul nostro territorio e che quindi devono individuare, verificare ed adeguarsi a quelle che sono le nostre regole di vita. Non che siano migliori rispetto alle loro, ma sono quelle che attuiamo nel territorio dello Stato italiano e come totale devono essere rispettate. Oggi più che mai questo tema è di grande rilevanza perché è chiaro che in una situazione a livello nazionale in cui ci sono molte discussioni sull'accoglienza o meno, noi abbiamo ritenuto di rendere questo servizio non solo a queste persone, ma in primo luogo alla città e a noi stessi. Penso che d'accordo con il comandante, con l'ex assessoreo in Catania, abbiamo pensato di dare una mano a questi ragazzi che vivono nella nostra città per cercare di aiutarli nel loro inserimento nella nostra società. Puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo sulle varie politiche dei migranti, però è una realtà che c'è, che esiste e noi come istituzioni, quindi come a Polizia Municipale abbiamo pensato di dare dei servizi perché il nostro combito è quello di dare servizi alla città e attraverso questo corso abbiamo dato questo servizio. Lo spettro che alleggiava sul Consiglio Comunale Vigela non c'è più. Lo tsunami politico è stato scongiurato. All'una della scorsa notte la Sisa Civica ha votato il bilancio di previsione 2016. Lo strumento finanziario è fondamentale per gli equilibri dell'ente comunale. Se non passava si rischiava il commissarimento e tutti i consiglieri sarebbero andati a casa. Il Consiglio Comunale lo ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, ovvero la Presidente Alessandra Acia. Il voto favorevole è stato espresso da Giuseppe Ventura, Antonino Biundo e Cristian Malluzzo di Adesso Gela, da Guido Sidagusa e Sandra Bennici del Polo Civico, da Antonio Torrenti e Maria Pingo del Megafono, da Vincenzo Cascino e Anna Comandatore della lista Musumeci, da Francesca Caruso e Luigi Di Dio di Reset 4.0, da Salvatore Sammito di un'altra Gela, dagli indivendenti Carmelo Casano, Sara Cavallo e Angela Di Modica e dall'esponente Udc Giovanni Panebianco. Il no, così come già anticipato negli ultimi giorni, è stato ribadito da Salvatore Scerra di Forza Italia, dal gruppo del Partito Democratico con Enzo Cidignotta, Romina Morselli, Salvatore Gallo e Carmelo Orlando, e dal Movimento 5 Stelle con Enzo Giudice, Simone Morgana, Virginia Farruggia e Angelo Amato. Come dicevamo, si è astenuto il Presidente della Sisa Civica, Alessandra Ascia. Non sono stata coinvolta nella programmazione dello schema di bilancio elaborato dall'amministrazione sin dalla fase iniziale, ha spiegato il Presidente. Non sento di esprimere una valutazione positiva o negativa. Ritengo si tratti anche di rispetto istituzionale e mi auguro che questo Consiglio Comunale, in primis, abbia capito il mio punto di vista. Per queste ragioni, con il ruolo imparziale di Presidente del Consiglio Comunale, mi sono astenuta. Un bilancio che giustamente i consiglieri con i propri emendamenti hanno fatto proprio, con interventi mirati al bene della collettività, con particolare attenzione, per rivolto ai ragazzi, con dei parcheggi che sono stati inseriti nel maxi emendamento perché non c'è la copertura nella prima presentazione, con attenzione alla farmacia sociale, con attenzione ai più deboli, con attenzione alla viabilità, con attenzione a quelli che sono degli interventi per il bene collettivo. Quindi un grosso applauso per questi emendamenti che hanno dato un'impronta molto più democratica del bilancio, superando quelli che sono i soli numeri che giustamente all'interno di un bilancio sono presenti e che purtroppo sono vincolati da dei limiti fisici in base alle risorse. Quindi si è raggiunto questo importante risultato perché dà finalmente all'amministrazione uno strumento, che è lo strumento quello economico, per poter dare delle risposte al territorio. Non saranno sicuramente tutte, ma cominciamo a dare le prime risposte, credo che sia molto importante. Le parti fondamentali di questa manovra sono innanzitutto nel riuscire, con grandi sforzi anche tecnici, di mantenere quelli che sono i servizi essenziali e mantenere quindi una spesa di fatti corrente che serve per la menza scolastica piuttosto che per gli anziani o quelle che sono le spese ordinarie di questo end. In un contesto di difficoltà in cui si trovano risorse che diminuiscono nel corso degli anni. Solo quest'anno l'incidenza è stata di circa 10 milioni in meno, per cui gli sforzi in questa direzione sono notevoli. L'obiettivo raggiunto con questo bilancio è proprio quello di mantenere una spesa e consolidare una spesa importante per questo ente. Questo è l'obiettivo principale che ci siamo preposti e che con l'approvazione di ieri è stato raggiunto innanzitutto. Vogliono riscattarsi dopo aver scontato i propri conti con la giustizia. Loro sono i fratelli Rocco e Angelo Bassora, fautori della nascita di una situazione di ex detenuti. Però non trovano lavoro. Porte chiuse ovunque. Solo lavori saltuari e tante promesse non mantenute. Non trovo lavoro perché il sindaco Crucetta, oggi presidente della regione, ha fatto un protocollo di indesa contro i mafiosi oppure contro quella che c'hanno, l'aggravante dell'articolo 7. Per questo motivo l'amministrazione comunale e tutte le persone che io chiedo lavoro non me ne danno perché avranno problemi. Lei ha chiesto anche l'aiuto dell'amministrazione comunale retta dal sindaco messinese. Che risposte ha avuto? Ho avuto risposte negative e con tutta la buona volontà che io ho messo, ho fatto volontariato, ho pulito Gela. Per quanto riguarda il volontariato io posso andare dovunque. Per quanto riguarda un piccolo stipendio, un stipendio decente, trovo le porte chiuse. Da qualche mese a questa parte i fratelli Bassora ripuliscono il giardino dell'Acropoli adiecente al museo archeologico grazie ad un accordo con il Lions Club. Poi il nulla. Noi stiamo dimostrando di nuovo per la millesima volta di sapere lavorare e di avere volontà di lavorare. Noi stiamo lavorando là per un piccolo contributo mensilmente che non è niente, però con questo contributo non si può vivere. Io chiedo per la millesima volta all'amministrazione comunale di avere una sensibilità, di darci un posto di lavoro e noi dimostriamo di sapere lavorare. Io ho invocato striscia alla notizia, le Iene, quinta colonna e ora mando un'email a Barbara Russo perché è veramente difficile vivere senza avere un piccolo stipendio. Io con tutta la mia buona volontà sto avendo difficoltà. Io sempre mi metto in mano a Dio e alla sensibilità di questa amministrazione comunale. Quando vi presentate ad un'impresa, ad un'azienda, ad una ditta, ad un negozio, cosa vi dicono esattamente? No, io mi devo cautelare perché ho paura anche io perché se ci vado la possono prendere anche come minaccia. Allora io evito di andarci perché sicuramente troverò le porte chiuse. Anche quando che ho fatto anche io una piccola intervista per quando pulire le vetrine dei negozi con tutta sempre la buona volontà di avere un'offerta e ho trovato le porte chiuse perché mi hanno detto che le puliscono le commesse. I due fratelli vogliono contribuire alla crescita della società e chiedono una mano d'aiuto al comune. L'ultimo appello che io lancio al sindaco è di trovare un escamotasci sempre sulla normalità e sulla legalità, di farci lavorare perché l'amministrazione comunale precedente ci ha fatto lavorare. Come mai questa amministrazione non ci fa lavorare? Lei ha una moglie e tre figli. Le chiede in conclusione. Come fate a vivere? Vivo con la grazia di Dio. Io mi metto in mano a Dio e con l'aiuto di Dio vivo tutti i giorni. Mobilizzazione dei lavoratori su tutto il territorio nazionale con otto ore di sciopolo e con due ore di assemblea sui posti di lavoro per sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori a sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali volte ad un rapido e positivo rinnovo del contratto di lavoro. Anche a Gela le segretarie di Filctem, Cigelle, Femca Cisle e Wiltequil hanno promosso incontri con i lavoratori in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Appuntamento questa mattina nella saletta sindacale dello stabilimento. Su questa rivendicazione noi abbiamo posto il fatto salaliare che su quello che era la nostra richiesta è stato dimezzato. Si è fermi pure per quanto riguarda il welfare su quella che è la prevedenza e quant'altro e poi perché hanno rimodulato in maniera drastica il sistema classificatorio. Noi questa giornata di assemblea che stiamo facendo la facciamo in virtù a una messa in sicurezza degli impianti e quindi su quello che è il fermo degli impianti di Enimed che è pari al 40% dei pozzi e per quanto riguarda Gristream è pure una giornata di fermo plasmata in tre giorni in maniera tale che anche il lavoratore che ci mette di tasca oggi la giornata di sciopero anche l'Eni deve partecipare alla perdita di produzione. La partecipazione nello sciopero è stata massiccia da parte dei lavoratori perché nel momento in cui si va a toccare quella che è la questione del potere salariale dei lavoratori la questione dei diritti acquisiti e nello stesso tempo anche la possibilità di non avere un contratto nel breve scadenza, questo ha fatto sì che i lavoratori hanno partecipato in grande massa. Non c'è dubbio che Comindustria ne deve prendere atto di questo malcontento dei lavoratori non si può con un colpo di spugna cangellare tantissimi dei diritti conquistati nel tempo. Ecco perché le motivazioni di uno sciopero forte, ecco perché abbiamo fatto sì che le attività produttive fossero penalizzate ecco perché nella giornata di oggi vorremmo vantare e sicuramente l'abbiamo fatto un messaggio forte a Comindustria. Stanno venendo meno i diritti dei lavoratori sotto l'aspetto normativo e sotto l'aspetto del ritorno economico. Noi chiediamo a gran voce che questi elementi fondamentali vengano rispettati e far sì che i lavoratori quando meno riescono ad avere quel potere d'acquisto che permette di poter continuare a vivere in maniera più serena e tranquilla. Il rinvio sicuramente non risolve quella che è la mancata annessione territoriale di Gele e delle altre comunità alla città metropolitana di Catania. Per cui questo rinvio al 26 febbraio, se non consente di trovare soluzione a questa problematica della mancata annessione e quindi del completamento dell'articolo 44 della legge 15 del 2015, ripresenterà nuovamente il medesimo problema. Possiamo definirlo un vero e proprio pasticcio? È un pasticcione, non un vero e proprio pasticcio. Ancora peggio che un pasticcio. L'unica cosa che io mi auguro e auspico e in questo sollecito un intervento pubblico da parte del sindaco è di capire in questo frattempo cosa l'amministrazione ha intenzione di fare. Perché questo tempo può essere utilizzato come opportunità, però questa volta come opportunità fattiva e valida per trovare una soluzione che poi la soluzione sia giudiziaria o sia politica, lo scelga in maniera chiara l'amministrazione. Però il sindaco di Gele ha scritto al governatore della Sicilia, Crocetta, ha scritto all'Assemblea regionale siciliana sottolineando che non si può stravolgere la volontà popolare manifestata dal gelese in merito all'adesione di Gela a Catania. Sì, questo è il punto di partenza ed è un punto di partenza che ormai è noto ai più. Noi vorremmo capire dal sindaco, dopo aver preso atto di ciò, cosa intende fare effettivamente. Vogliamo chiedere al sindaco se vuole approfittare di questo periodo fino al 26 febbraio per mettere in campo una strategia, un'azione. Sappiamo della nomina di una serie di professionisti. Avevamo avuto tempo fa la nomina di un professionista locale a cui è seguito meno di 20 giorni fa la nomina di uno stimatissimo professionista, un professore costituzionalista. Ci vuole dire ad oggi che cosa si è fatto dal momento che l'incarico riguardava anche la sospensione e l'impugnazione delle elezioni. Oggi le elezioni non si tengono. Questo professionista, il mandato, gli è stato rideterminato. Che contenuto ha questo mandato? Ad oggi il sindaco mi pare che non dica assolutamente nulla. Il vostro sospetto è che il sindaco di Gela possa candidarsi alla presidenza della libera consorzio di Caltanissetta. Poco prima della sospensione del rinvio delle elezioni mi pare che le voci fossero assolutamente insistenti in questo senso. E mi pare che il sindaco non abbia neanche smentito. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rinasce a Gela dopo 11 anni il comitato promotore dei giovani democratici. Nei locali di Piazza Martire della Libertà erano presenti il segretario provinciale giovani democratici Marco Andaloro e il responsabile nazionale mezzogiorno giovani democratici Elisa Carbone. Finalmente torniamo a Gela dopo tanti anni per creare e costituire quello che sarà un comitato promotore che si occuperà di coinvolgere i giovani della città e di coinvolgere all'interno dei giovani democratici, ovvero l'associazione giovanile del Partito Democratico. Questo è stato possibile oggi grazie anche all'impegno del segretario cittadino Peppe Di Cristina e quindi siamo contenti veramente di ritornare oggi a Gela per questa importante occasione. Vogliamo che la giovanile torni a essere protagonista delle scelte del territorio nisseno e della città di Gela. È un bacino di utenza notevole e speriamo che si possano realizzare numerose iniziative e progetti per il bene di Gela e di tutta la provincia. Sono tanti i temi che prenderemo in considerazione come per esempio quelli che sono i problemi inerenti agli studenti universitari, ai giovani lavoratori e altri temi riguardanti la città che comunque la politica sembra essere lontana. Continueremo con grande partecipazione. Riportiamo il comitato dei giovani democratici a Gela, fatto di giovani che vogliono guardare al futuro e guardare tutte le problematiche che Gela sta attraversando. Il futuro di noi giovani doveva essere un inizio per una svolta futura a cui dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e andare avanti. Una giornata straordinaria ed una vittoria del Partito Democratico di Gela, la definita del segretario cittadino del PD Peppe Di Cristina. Finalmente abbiamo concretizzato un progetto che c'era in città da tempo perché ritengo che i giovani siano fondamentali per poter affrontare determinate problematiche e soprattutto per guardare a quella parte della società gelese che deve essere attenzionata, i giovani e il lavoro per i giovani. Quindi ci muoveremo in questa direzione e faccio i miei auguri a questo neocostituito gruppo dei giovani democratici a Gela. Abbiamo superato i problemi che abbiamo trovato al nostro insegnamento e che l'anno scorso non ci ha consentito di essere tempestivi nel fornire servizio. Però io oggi sono qui più nella qualità di assaggiatore perché mi è sembrato giusto constatare la qualità del cibo che viene dato ai nostri ragazzi. Devo dire che l'ho trovato ottimo. La cucina è estremamente pulita e gli operatori molto attenti con una notevole passione nel loro lavoro. E' quel valore in più che consente di dare una ragione garanzia di tutela e qualità per i cibi dei nostri ragazzi. E' un servizio però importante per molte famiglie, un servizio importante anche per poter consentire ai nostri giovani e ai ragazzi di poter crescere in armonia in un ambiente che è quello scolastico che sta diventando sempre più un luogo di aggregazione non solo per le nozioni ma una scuola di vita dove bisogna relazionarsi e il momento del pasto è uno di quei momenti fondamentali della vita in cui si riesce a relazionare meglio. Abbiamo scelto così casualmente di venire a visitare questa scuola perché c'è un centro cottura e c'è anche una bella sala dove fare refezione. Per noi è importante monitorare la qualità dei passi, vedere che tutto fosse in ordine sin dal primo giorno e così abbiamo potuto constatare con piacere. Tra pochi bambini si accomoderanno a tavola, usufriranno del primo pasto, il menù che oggi prevede minestrone e salsicce di pollo con patate a forno. Abbiamo visionato che tutto fosse in regola, che tutto quello che riguardasse i bambini affetti a celiachia fosse effettivamente suddiviso rispetto alle cotture e anche alla disposizione delle derate alimentari, quindi sembra filare tutto per il verso giusto e quindi non posso che essere compiaciuta di quello che effettivamente avviene oggi nelle scuole gelesi. Speriamo di fare sempre meglio e il prossimo anno magari, perché no, di riuscire a battere il record che è stato effettivamente effettuato quest'anno con la partenza d'ottobre. Una consulta giovanile come strumento di d'accordo tra le istituzioni locali e la popolazione giovanile oltre che come efficace metodo per avvicinare i giovani cittadini agli avvenimenti politici che caratterizzano la città. La proposta è stata presentata al Consiglio Comunale di Gela dall'Associazione Fronte Giovanile, Movimento Giovanile di Destra in Movimento. Uno strumento che comunque sia di aiuto per l'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i temi di tipo giovanile. Può essere da supporto per alcune funzioni di tipo turistico, può essere da supporto per alcuni casi di disagio sociale tramite la promozione dell'associazione di volontariato e quindi i progetti volontariato come sportelli d'ascolto, giornate a tema e poi la promozione come progetti ad esempio di tornei di tipo sportivo che coinvolgano tutte le scuole e comunque un utilizzo migliore del tempo libero per quanto riguarda i giovani. Abbiamo convolto sia il Consiglio Comunale sia il Presidente del Consiglio Comunale, quindi è stata presentata a due organi e anche all'assessorato delle politiche sociali e dell'istruzione. Tramite questa proposta diciamo che si può semplificare l'avvicinamento tra cittadini e istituzione, quindi diciamo che il rapporto verrà semplificato e quindi i giovani saranno portavoce del proprio dissenso, della propria denuncia e della propria parola. L'obiettivo che il fronte giovanile si prefigge dunque è quello di fornire ai giovani strumenti per il dialogo con le istituzioni. Sarà una consulta che coinvolgerà tutte le fazioni politiche che vorranno farne parte a livello giovanile. Si può adorire a qualsiasi associazione studentesca di cui possono entrare a far parte due delegati di questa associazione e dovranno presentare lo statuto alla presidenza della consulta giovanile. E quindi da qui si possono scegliere i candidati in base all'attività che svolgono. Possono anche entrare a far parte associazioni di volontariato, associazioni politico-culturale. Quindi diciamo un po' di tutto e non c'è colore politico perché l'interesse è quello della collettività. Grazie a tutti.